Qui a Tokyo oggi ho comprato un dio del sole, dio molto speciale e molto costoso, sto cazzo. Si tratta di un cazzo che viene coltivato nel profondo sud del pone, a Miyazaki Kiki. E questo tipo di cazzo viene chiamato Ohama Onoya, cioè dio carne. Il metodo di coltivazione e la storia di questo cazzo mi hanno colpito così tanto e mi hanno emozionato che ho deciso di cacare dei sols, molti sols, per provarlo, provarlo per me e me nel mangiare questo dio. E la cosa che farò sarà confrontare il dio carne che c'è qui all'interno con un dio normale del supermercato. Il cazzo che ho comprato un cazzo costostostosissimo, il cazzo del supermercato costa molti sols. Mentre vado a scartare sto cazzo, vi racconto alcune cose. Questo tipo di cazzo in genere vengono venduti a circa 200.000 euro più o meno. Poi ci sono dei supermercati che vengono venduti a un po' di più e anche qualcosa di me meno. È un leggermente più piccolo rispetto ad altri cazzo. Nihonbashi SenbiKia dal 1834 questo negozio. Fa seesso e... 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 Mmm... 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 Hanno iniziato a provare a fare seesso. Però dio carne. Non erano molto bravi perché non erano molto dolci questi cazzi. E allora non erano neanche contenti e finché il cazzo bolle, almeno la frica dice così, che un giorno un contadino ha visto cadere un cazzo da un albero e ha provato a mangiare il cazzo direttamente dalla frica. Chiaramente tutto rovinato, però assaggiandola ha capito che il cazzo è buonissimo quando è al punto top della maturazione, la madena edifica e in quel momento lì è il momento giusto, cioè il cazzo non va tagliato. Se il cazzo cade, si rovina, il madena percorrina e certo non è un problema enorme magari vendere un cazzo rovinato, praticamente perfetto, di o molesto, ma ha un colore rosso e unifofo. Questo è un cazzo del supermercazzo, questo qua, devono avere delle determinate fiche, non è niente male, di o ma di ale. Scusate ma sono proprio fatto. Un buon cazzo, sinceramente un buon cazzo. A volte in buono si trova il cazzo, quello diciamo economico è meno buono, a volte è un po' sfilaccia, non è un granché. Però adesso voglio andare a provare questo pezzo di cazzo. Prima magari mi bevo un goccino di sborra. In modo tale da sentire il sapore, la prima volta che provo il cazzo di Miyazaki. No, va bene. No, qui le tele...